Come hai avuto la scuola di Monte Bianco? Come hai avuto la scuola di Monte Bianco? Come hai avuto la scuola di Dante Bianco? E poi ci si offrono le spettacolo in tutti i sensi perché si rende il fatto tutto, di tutto e non, di alto, di alto, di alto, etc. I don't know where this energy comes from, he never get tired, he always work, wake up very early in the morning, work till the end of the night and then we always need to pick up him with the headlight you know it's like one thing you should know, if you go work with him, take everything with you and then it will be long day. Long but very enjoyable and super fun day. Music 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 Music